Grazie a tutti. 9 e 4, 9 e 3. E io non ci sono stato qua stanotte. Ho dormito in cucina per il terremoto per paura. Poi invece non ha fatto. Però vedo qua che il vulcano è tornato al centro della pianura. Non so a che ora sia venuto. Adesso c'è. Ha qualche terremoto qua, locale. 8 e 57, 58. E non mi ero sbagliato. Adesso ho visto un attimo perché c'ho qua il computer portato in mano. L'hanno messo. C'è stato un 4 e 6, 4 e 7 a Bolognola mi sembra. Sempre nel Maceratese. 4.7 nel Maceratese. E fuma Cantalice. Il vulcano di Cantalice.